Ben ritrovati in studio per questa seconda parte di Free News e ci occupiamo adesso del MUOS. Oggi, come sapete, è il giorno della manifestazione nazionale a Niscemi. Il corteo è previsto per oggi pomeriggio, mentre questa sera ci sarà un concerto. Intanto, ieri è arrivata la conferma della revoca delle autorizzazioni da parte dell'assessorato regionale all'ambiente. Revocate le autorizzazioni del MUOS, la buona notizia è arrivata ieri, un giorno prima della manifestazione nazionale prevista per questo pomeriggio. L'assessorato al territorio ambiente ha revocato definitivamente l'autorizzazione del MUOS di Niscemi e ha dichiarato il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, per placare definitivamente le polemiche collegate alla realizzazione del sistema di comunicazioni satellitari della Marina Militare Americana MUOS a Niscemi. L'assessore regionale al territorio ambiente, Marilla Lobello, ha poi confermato in un suo comunicato che sono state revocate le autorizzazioni della regione siciliana per il MUOS. L'assessore il 5 febbraio scorso aveva ricevuto dal presidente Crocetta il mandato per il ritiro dei provvedimenti rilasciati dal presidente del governo al sistema di comunicazione satellitare. L'avvio della procedura di revoca era stato comunicato già l'11 febbraio scorso, ma la manifestazione oggi si terrà ugualmente, previste alle circa 10.000 persone, in arrivo da tutta Italia. Adesso apriamo una pagina dedicata alle festività pasquali, grande attesa a Comiso per la celebrazione appunto della Pasqua. Domani a partire dalle 9 la città sarà in festa. Si inizia con l'esibizione dei corpi bandistici, poi l'uscita dei simulacri dalla chiesa dell'Annunziata, le pagine davanti alle altre chiese, fino al rientro dei simulacri. Vediamo. Tutto pronto a Comiso per la Pasqua. Si rinnovano i tradizionali riti tra fede e folclore. Domani mattina i due simulacri della Madonna del Cristo Risorto, intorno alle 11, usciranno dalla chiesa dell'Annunziata, accolti dagli spari e dai fedeli in festa. Prima dell'asciuta alle 9 è prevista l'esibizione dei tre corpi bandistici della città, casmeneo, polvirenti e diana. Poi lo spettacolo pirotecnico che anticipa l'uscita dei simulacri. L'asciuta è un momento particolarmente emozionante. Il primo simulacro uscire è quello della Madonna Annunziata, accolto dal lancio di migliaia di volantini colorati e dal suono delle campane. A quel punto l'intonazione del regina Celi, da parte di due angioletti e la prima pace. Poi è inizio la precessione per le principali vie della città. Durante la giornata, davanti a tutte le chiese di Comiso, i simulacri si fermeranno ai bambini vestiti da angeli, con abiti che riproducono esattamente quelli del 1400, a turno intoneranno il regina Celi. Alla fine del canto ci saranno le paci, ovvero i fedeli che spingono i simulacri, corrono gli uni contro gli altri e appena si incontrano, si toccano con il palmo delle mani. La più attesa è certamente la pace dello stretto, davanti alla chiesa madre di Santa Maria delle Stelle. A conclusione della domenica di Pasqua, alle 24, ci sarà lo sparo dei fuochi d'artificio. Lo spettacolo si ripeterà lunedì alle 21.30, incontrata a Quanova. E dai riti folcloristici e religiosi passiamo anche a ciò che riguarda invece la cucina. La Pasqua, lo sapete, è una festa religiosa, ma anche gioia per i palati. Grandi preparativi in queste ore in cucina per il tradizionale pranzo pasquale. Non resta l'ora che augurarvi buon pranzo. Il lungo weekend pasquale tanto atteso è finalmente arrivato. Tre giorni di relax dedicati soprattutto alla gastronomia. Oltre al significato religioso, infatti, Pasqua è soprattutto una festa per il nostro palato. E dopo il digiuno e la penitenza non c'è niente di meglio che rifarsi con piatti prelibati della nostra tradizione. Anche se, anche quest'anno, la crisi occuperà un posto nelle tavole degli italiani. Da Codacons e Coldiretti arrivano per l'appunto notizie poco incoraggianti. La spesa per il pranzo pasquale è stimata in circa un miliardo di euro in calo del 10% sul 2012, mentre sprofondano le vendite di uove e colombe. E più che mai in tempo di crisi acquistano importanza i piatti poveri della tradizione culinaria locale, che, diciamo la verità, sono anche più buoni. Lo sanno bene le nostre mamme e nonne che da giorni sono indaffarate in cucina per proporre ai commensali le leccornie pasquali. Tra queste ci sono le classiche impanate, che si chiamano così perché il loro ripieno viene avvolto da un impasto di pane sottile e morbido. Ha innumerevoli varianti, ma quelle classiche sono ripiene di agnello. Un'altra ricetta è quella dei pastieri, una focaccia ripiena con l'interiora di agnello lessate. Ma le interiora sono anche l'ingrediente principale di un altro piatto, i turcini una, preparati con mudello vine, cipolla, caciocavallo ragusano e con una spruzzata di succo di limone. C'è poi il pane pasquale a forma di colomba, ma non solo, solitamente con un uovo sodo che cuoce insieme al pane. Per chiudere il pranzo dopo l'uovo e la colomba non possono mancare le cassatine di ricotta, anche qui preparate con innumerevoli varianti, dalle gocce di cioccolato al miele alle mandorle. Non resta allora che augurarvi buona Pasqua e soprattutto buon pranzo. E dopo il grande pranzo pasquale, in questo lungo weekend, c'è già chi pensa anche a lunedì di Pasquetta. Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. L'antico proverbio in questi giorni, così come a ridosso del Natale, è rispolverato. Al via allora i programmi per stabilire come trascorrere i lunedì di Pasquetta. Se infatti la crisi economica rende improbabile trascorrere l'intero weekend pasquale fuori casa, a lunedì dell'Angelo non si rinuncia. Lo conferma anche la Col di Retti, secondo cui per Pasqua si dice addio alle tradizionali vacanze in cui si dorme fuori e ai passi al ristorante, ma non si rinuncia ad una giornata di svago, magari facendo ricorso al pranzo a sacco preparato a casa. Se infatti il pranzo di Pasqua verrà consumato per più di 8 italiani su 10 a casa, la metà di loro non intende rinunciare alla tradizionale gita fuori porta di Pasquetta. Le mette sono le classiche, la campagna per una scampagnata all'aria aperta, complici le temperature gradevoli e il mare per un assaggio di estate. D'altronde non c'è meglio di una giornata con amici e parenti per ricordare il vero messaggio cristiano. E questa notte tornerà l'ora legale, ricordatevi allora di spostare le lancette del vostro orologio un'ora avanti, dunque si dormirà un'ora e meno e attenzione ai rischi che l'organismo potrebbe subire. A Pasqua lancette dell'orologio un'ora avanti, la notte tra sabato e domenica infatti esattamente alle 2 entrerà in vigore la cosiddetta ora legale e la bella stagione si avvicina. L'arrivo dell'ora legale infatti ci permetterà di godere di un'ora di luce naturale in più. E pazienza se stanotte dormiremo un'ora in meno, da domani godremo di più tempo per stare all'aria aperta. Anche se il nostro organismo non farà di certo i salti di gioia, i medici parlano di un vero e proprio jet lag che richiederà al nostro corpo da due giorni fino ad una settimana di tempo per abituarsi. Paventato addirittura un aumento del 10% del rischio di attacco cardiaco perché spostare le lancette un'ora avanti può compromettere la regolarità del ritmo che regola il ciclo di veglia e sonno e dunque ridurre la capacità di far fronte a stress e shock di varia natura. Ma ecco alcuni accorgimenti che possono aiutarci a ridurre al massimo ogni fastidio. Lunedì, visto che è festa, svegliatevi con mezz'ora di anticipo in modo da preparare il corpo alla sveglia del martedì, quando si tornerà al lavoro. Fate una ricca colazione, uscite presto al mattino e se possibile fate un po' di attività fisica. Ma soprattutto pensate positivo e concentratevi sui vantaggi che l'ora legale offrirà dalla riduzione di consumi di energia, al miglioramento dell'umore e del benessere psicofisico in generale alla possibilità di godere di un'ora di sole in più per il proprio tempo libero. Bene, per questa edizione è tutto. Vi ricordo che potete seguirci pure sul nostro sito fritvonline1.it Infine non resta che augurarvi una buona Pasqua da tutta la redazione di Fritvonline1.it Grazie a tutti.